ciao a tutti io sono veronica per realizzare questo bellissimo top ci occorreranno allora cotone fiocco nella colorazione 70 30 3 gomitoli quindi tre gomitoli di cotone fiocco e due gomitoli di lurex che trovate sempre sul sito lavorato in doppio questo lo lavoreremo in doppio poi uncinetto 3 mm e uncinetto 2,5 mm per le rifiniture finali delle forbici e un ago per cucire e poi i bottoncini se volete in sostituzione del lurex potete utilizzare le perline crystal iuri che sono presenti sul sito 3 sfere shop.com nella sezione bijou quindi a voi la scelta se utilizzare il cotone lurex o le perline crystal iuri inizia nel nostro progetto abbiamo 150 catenelle con l'uncinetto 2,5 mm fatte queste ci alziamo per girare e tornare indietro con 150 punti alti realizzati i 150 punti alti faccio una catenella giro il lavoro e andrò a fare 150 punti bassi allora fatti i 150 punti bassi mi marco il 75esimo punto basso che sarà il centro e andremo a lavorare la prima parte la prima metà quindi mi alzo con le catenelle e vado a fare 71 punti alti più una tripla diminuzione alla fine per la tripla diminuzione vado a caricare il filo sull'uncinetto entro nella prima maglia sfilo le prime due asole ricarico il filo entro nella maglia successiva sfilo le altre due asole ricarico entro nella terza maglia carico il filo e mi ritroverò con queste quattro asole linee che andrò a chiudere tutte insieme a questo punto faccio una catenella giro il lavoro e vado a fare punti bassi fino alla fine della riga ora iniziamo il sesto giro quindi ci alziamo nel giro successivo e vado a fare 69 punti alti più una tripla diminuzione alla fine nel settimo giro faccio una catenella giro il lavoro e vado a fare una diminuzione a punto basso e punti bassi fino alla fine della riga per l'ottavo giro vado a fare 66 punti alti e una diminuzione tripla alla fine nel nono giro dopo aver fatto una catenella girato il lavoro proseguo facendo una diminuzione a punto basso e punti bassi fino alla fine della riga nel decimo giro andiamo a fare una diminuzione tripla a punto alto quindi iniziamo il giro con una diminuzione tripla facciamo 60 punti alti e una diminuzione tripla alla fine della riga nell'undicesimo giro andiamo a fare una diminuzione iniziale a punto basso 58 punti bassi e una diminuzione alla fine della riga quindi diminuzione iniziale 58 punti bassi diminuzione alla fine nel dodicesimo giro ci alziamo e andiamo a fare una diminuzione tripla a punto alto 54 punti alti e una diminuzione tripla alla fine del giro quindi diminuzione tripla iniziale 54 punti alti diminuzione alti diminuzione tripla alla fine del giro ora andremo a lavorare alzandoci per questa prima parte che è quella del davanti dopo poi taglieremo il filo e ci andremo ad agganciare nel punto che vi indicherò per fare la parte alta del dietro quindi faccio una catenella giro il lavoro e vado a fare una diminuzione a punto basso 20 punti bassi e una diminuzione a punto basso ecco qui lavoreremo questa parte allora diminuzione tripla iniziale facciamo la diminuzione tripla iniziale 16 punti alti e una diminuzione tripla finale per il quattordicesimo giro per il quindicesimo giro facciamo una diminuzione iniziale a punto basso 14 punti bassi è una diminuzione finale per il sedicesimo giro ci alziamo facciamo una tripla diminuzione con punti alti 10 punti alti è una diminuzione tripla finale per il dici e settesimo giro ci alziamo con una catenella dopo aver girato il lavoro facciamo una diminuzione a punto basso 8 punti bassi e una diminuzione finale per il dici e settesimo giro andiamo a iniziare la riga con una diminuzione tripla a maglia alta 4 punti alti è una diminuzione tripla alla fine nel diciannovesimo giro ci alziamo con una catenella facciamo una diminuzione iniziale a punto basso due punti bassi è una diminuzione finale sempre a punto basso nel ventesimo giro ci alziamo e facciamo due diminuzioni a punto alto quindi non tripla ma due diminuzioni normali una e due faccio una catenella giro il lavoro e faccio una diminuzione a punto basso quindi salto un punto il punto sottostante vado nel successivo e faccio un punto basso chiudo e taglio il filo ora dopo aver tagliato il filo mi ritrovo in questa situazione e andremo a lavorare la metà del dietro quindi questo è il davanti e ora andremo sul dietro seguiremo ovviamente lo stesso verso di lavorazione quindi mi girerò il lavoro in questo modo perché lavorerò i punti bassi sopra i punti alti lascio non lavorate 9 maglie alte sottostanti entro nella decima e inizio a lavorare faccio una diminuzione a punto basso 20 punti bassi è una diminuzione finale questo punto non farò altro che ripetere i giti dal 13 al 14 quindi il tredicesimo già l'abbiamo fatto quindi dal 14 al 21 come abbiamo fatto per il davanti allora fatto tutto il procedimento anche sull'altro lato andremo a fare la parte dello scollo partendo dalla punta mi aggancio con l'uncinetto e vado ad effettuare tutto il primo giro di punti bassi fatto tutto il giro di punto basso faccio una catenella giro il lavoro e torno indietro con delle mezze maglie alte facendo attenzione nel nella parte centrale a praticamente saltare le tre maglie centrali e lavorare direttamente sul lato opposto arrivata nella parte centrale andrò a fare una diminuzione tripla entrando direttamente in tutte e tre le maglie sottostanti e chiudendole insieme ecco qui e proseguo con le mezze maglie alte sul lato opposto per il prossimo giro ci prepariamo il lurex doppiato quindi con due figli lo lavoreremo e facciamo ci alziamo innanzitutto facciamo tre maglie alte 3 e mi aggancio con il lurex alla prima di chiudere l'ultima la terza maglia alta prendo il lurex e lo inserisco nella lavorazione in questo modo ora lascerò il colore del corpo del top e andrò a fare un punto nocciolina il punto nocciolina consiste nel fare cinque maglie alte tutte nello stesso punto di base 3 4 e 5 tolgo l'uncinetto entro nella prima maglia alta effettuata aggancio l'asola la faccio passare attraverso questa prima maglia questo punto nocciolina a questo punto lascio il lurex però lo porto avanti nella lavorazione prendo il colore del corpo e vado a fare nuovamente 3 maglie alte 2 e 3 prima di chiudere la terza riprendo il lurex e lo inserisco nella lavorazione faccio cinque maglie alte tutte nello stesso punto di base tolgo l'uncinetto entro nella prima maglia alta e aggancio l'asola facendo attenzione ovviamente con il lurex che scivoloso ecco qui riprendo il filato primario e proseguo con 3 maglie alte continua così fino alla fine del di questo giro allora finito il primo giro con le noccioline ritorniamo indietro con delle mezze maglie alte quindi ci alziamo io mi alzo facendo un punto basso e una catenella e torno indietro con delle mezze maglie alte arrivate la punta centrale vi mostrerò come procedere arrivata alla punta centrale vado a fare una diminuzione tripla quindi prendo le tre maglie del colore principale e le chiudo insieme in questo modo lascio libera questa della nocciolina e vado nelle tre successive e faccio la stessa cosa quindi un'altra diminuzione tripla ecco qui e proseguo normalmente ora fino alla fine della riga con le mezze maglie alte finito il giro di ritorno con le mezze maglie alte andrò a fare nuovamente un secondo giro con tre maglie alte e un punto nocciolina con il colore argento fatto anche il secondo giro di con il punto nocciolina torno indietro con le mezze maglie alte ricordiamoci di fare una tripla diminuzione qui al centro allora per l'ultimo giro vado a fare semplicemente un punto bassissimo in ogni punto sottostante però in back loop cioè prendendo solo l'asola posteriore di una maglia questa è la maglia la v della maglia questa è l'asola posteriore e questa è l'asola frontale io andrò a prendere solamente l'asola posteriore e farò tutto il giro appunto bassissimo quindi una volta lavorato lo scollo davanti andremo a fare le bretelle lo scollo dietro questo pezzettino qui la parte dove ci saranno poi i bottoni alle asole e tutto il giro manica allora agganciandomi nella parte inferiore del dietro questo lo scollo dietro questa è la parte dove ci saranno le asole quindi agganciandomi in questa parte inferiore con il filo dello stesso colore l'uncinetto 2,5 mm vado a fare 13 punti bassi sono teoricamente dovrebbe essere un punto basso dove c'è la riga del punto basso e due punti bassi dove c'è la maglia alta fatti i 13 punti bassi vado a fare un aumento per dare la curvatura e 22 punti bassi sullo scollo fino ad arrivare alla punta fatti 22 punti bassi vado a fare 80 catenelle che sarebbero la bretella fatte le 80 catenelle mi andrò ad agganciare sullo sulla parte della punta dello scollo davanti quindi faccio attenzione che le catenelle stiano tutte dal dritto ecco qui e mi aggancio sulla punta e proseguono la lavorazione sullo scalfo con 53 punti bassi quindi fatti 53 punti bassi sullo scalfo ci ritroveremo in questa situazione con le catenelle che sarebbero la bretella e noi adesso ci ritroviamo nella parte interna della bretella e andremo a lavorare questa parte interna successivamente andremo a lavorare la parte esterna partente e anche questa parte sottostante cioè della parte sottostante del top e dello scollo dietro insieme alla bretella poter esterna quindi ora io per la parte interna della bretella andrò a lavorare tutto il giro a mezza maglia alta compresa anche la parte delle catenelle quindi fatto tutto il giro di mezze maglie alte se siete sul lato del dritto rimanete sul dritto se invece vi ritrovate sul lato del rovescio cosa che succede per questo lato opposto del top cioè per questo lato sarebbe il sinistro girate il lavoro sul dritto allora fatto tutto il giro di mezza maglia ma alta vado a farmi 3 catenelle due punti alti nei due punti successivi è un punto nocciolina con il lurex punto nocciolina sono cinque maglie alte chiuse quindi complete tutte nello stesso punto di base 2 3 4 e 5 in questo modo quando avrò finito la quinta maglia alta alza leggermente la sola dell'uncinetto entro nel primo punto alto fatto mi aggancio la sola che ho alzato e la faccio passare attraverso la prima maglia alta ora mi riprendo il cotone fiocco e vado a fare tre punti alti quindi ripeto per tutto il giro questa sequenza di 3 maglie alte e un punto nocciolina allora fatto il giro con il punto nocciolina ci alzeremo con una catenella andremo a fare tutto il giro a mezza maglia alta fatto il giro delle mezze maglie alte ora per l'ultimo giro andremo a fare tre punti bassi e una diminuzione quindi 123 e una diminuzione la faccio in modo normale non invisibile e continua così per tutto il giro dove poi taglierò il filo una volta terminata la parte della bretella taglieremo il filo e andremo a lavorare sullo sullo scollo dietro e sulla parte dove ci creeremo le asole per i bottoncini allora questo lato cioè il lato destro lo inizieremo dalla bretella agganciandoci nella seconda catenella appunto della bretella e scenderemo fino a giù invece nel lato sinistro potremmo tranquillamente iniziare dal fondo in quanto per far riuscire il lavoro sul dritto quindi agganciandomi il filo sulla bretella inizierò a lavorare la sequenza delle caten delle punto nocciolina come notate ora sono sulla bretella andrò a fare semplicemente tre maglie alte sul sullo sullo scollo dietro mi aggancio il lurex prima di chiudere la maglia alta e faccio il primo punto nocciolina che comprende come abbiamo fatto negli step precedenti cinque maglie alte sfilerò l'uncinetto dall'ultima e mi lo rinserirò nella prima maglia alta per poi chiuderle insieme in questo modo sfilo l'uncinetto entro nella prima maglia alta aggancio l'asola e tiro fuori ora proseguirò a fare tre maglie alte con il colore del corpo del top e poi di nuovo una nocciolina a questo punto fatte cinque noccioline mi ritroverò nell'angolo dove farò tre maglie alte nello stesso punto di base e poi scenderò fino al fondo con la maglia alta nel prossimo giro poi mi alzerò con una catenella e ritornerò fino alla prima nocciolina cioè fino alla bratella qui con punto basso fatto il giro a punto basso c'è il giro di ritorno a punto basso con il rispettivo triplo aumento nel triplo aumento sottostante delle maglie alte mi ritroverò in questa situazione quindi dovrò agganciarmi con un punto bassissimo alla catenella successiva a quella che abbiamo iniziato parliamo delle catenelle sulla bratella quindi mi aggancio faccio un punto bassissimo salgo sulle due successive sempre con un punto bassissimo che corrisponde poi alla maglia all'altezza della maglia alta mi giro il lavoro e andrò a fare un secondo giro con il punto nocciolina rispettando sempre questa sequenza di cinque punti nocciolina un triplo aumento all'angolo e scenderò giù ora per l'ultima parte del top c'è di questo pezzettino qui saliremo col punto basso ci agganceremo alla bratella e taglieremo il filo le le asole le faremo successivamente aver fatto la parte inferiore del top perché poi andranno due bottoni su questo la su questa parte e due bottoni sulla parte inferiore quindi successivamente aver fatto la parte inferiore partiremo facendo dei punti bassi e poi le asole allora dopo aver fatto tutto il giro manica la spallina il centro dietro centro davanti gireremo il nostro top al contrario e lavoreremo ovviamente sul dritto il bordo sulla parte inferiore entro nel primo punto disponibile carico il filo e vado a fare quattro catenelle ricarico il filo sull'uncinetto nel prossimo spazio disponibile vado a fare una maglia alta però non la chiudo ricarico il filo sull'uncinetto sono nello spazio delle due maglie alte delle maglie alte sottostanti vado a fare un'altra maglia alta senza chiuderla ripeto di nuovo entro nello spazio della riga dei punti bassi ricarico il filo faccio un'altra maglia alta senza chiuderla avremo quattro quindi le quattro catenelle 1 2 3 in totale sono quattro maglie carico il filo sull'uncinetto sfilo tutto insieme vado a fare quattro catenelle entro in questa solina che si è creata sfilando tutto insieme le maglie alte e vado a fare 3 maglie alte questa volta però le chiudo 2 e 3 ora carico faccio due giri sull'uncinetto quindi per una maglia altissima entro nelle quattro catenelle in questo modo e concludo la maglia altissima la lavorazione subirà una torsione ecco qui questa è la torsione che dovrà subire ora ripetiamo carico due volte quindi per la maglia altissima entrò nel prossimo spazio disponibile faccio la maglia normalmente senza chiuderla lasciando le due asole sull'uncinetto ora vado a fare 3 maglie alte senza chiuderle quindi la prima la seconda e la terza ora sono arrivata alle catenelle sottostanti dovrei dobbiamo avere quattro maglie qui sull'uncinetto quindi quattro asole 1 2 3 4 a questo punto sfilo tutto insieme ecco qui faccio 4 catenelle 2 3 4 faccio 3 maglie alte nella prima catenella sarebbe quella che abbiamo che troviamo disponibile in basso 3 maglie alte qui dentro chiuse questa volta ogni maglia alta chiusa singolarmente 2 3 carico due volte il filo sull'uncinetto entro nelle quattro catenelle iniziali che abbiamo fatto sotto in questo modo quindi entro da dietro la maglia e finisco la doppia maglia alta normalmente e vedrete che la lavorazione subirà questa torsione e proseguiamo così in questo modo per tutto il giro questa lavorazione si chiama twist stitch allora termineremo il giro con una doppia maglia alta giusto per rendere il lavoro più lineare allora finito il primo giro mi alzerò con una catenella farò un punto bassissimo sulla doppia maglia alta che mi serve da guida e tornerò indietro facendo quattro punti bassi e una catenella quindi una catenella quattro punti bassi 1 2 3 e 4 una catenella 1 2 3 e 4 una catenella 3 e 4 terminerò il giro con questa lavorazione quindi quattro punti bassi e una catenella tra i due mazzetti diciamo allora dopo aver finito il giro di punti bassi come vi ho spiegato prima andrò a ripetere questa la prima sequenza che abbiamo fatto allora dopo aver ripetuto la sequenza per due volte quindi un giro con il twist 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 stitch è un giro di ritorno col punto basso quindi per due volte mi alzo con tre catenelle vado a fare tre punti punti alti e nello spazio della catenella quindi qui andrò a fare il punto nocciolina io con il lurex lo faccio quindi cambio colore mi aggancio il lurex e vado a fare il punto nocciolina nella catenella punto nocciolina come sappiamo comprende cinque 4 maglie alte chiuse singolarmente quindi 2 3 4 e 5 sollevo un po l'asola dell'uncinetto tolgo l'uncinetto entro nella prima maglia alta fatta mi acchiappo l'asola lasciata sollevata e la sfilo nella prima maglia alta e abbiamo fatto il primo punto nocciolina ora prendo nuovamente il colore del corpo del top ecco qui e vado nuovamente a fare tre punti alti quindi 1 2 e 3 prima di chiudere la maglia mi riaggancio il lurex perché ora andrò a fare la seconda nocciolina e continua così fino alla fine del giro allora dopo aver finito i due giri il giro con le noccioline gireremo il lavoro in questo modo quindi noi siamo andati in questo verso e lavoreremo su questa parte del dietro per formare le asoline quindi salgo a punto basso faccio una catenella due punti bassi nel punto della maglia alta un punto basso dove c'è il punto basso punto e così via fino ad arrivare qui io metterò la prima solina ne metterò tre quindi una qui una al centro e una in alto ecco qui siamo arrivati al primo punto faccio 3 catenelle 3 salto due punti continuo con i punti bassi dovrebbe passare quindi faccio punti bassi fino alla metà credo che fate bene qui quindi 3 catenelle 12 nella terza vado a fare l'altro punto basso 2 3 1 2 e 3 qui ecco qua ora faccio una catenella giro il lavoro scendo a punti bassi per tutto il lato e poi continuerò a fare tutto il giro di punto basso sul fondo fino ad arrivare alla fine del giro e dove taglierò il filo quindi una catenella un punto basso sul punto basso sottostante tre punti bassi nello spazio della sola punti bassi fino alla prossima a sola tre punti bassi nello spazio della sola e continuo così vedete queste sono le asoline vedete Grazie. Ok, nell'ultimo punto faccio un punto basso, una catenella, un punto basso nello stesso punto e proseguo a fare la lavorazione tutta a punto basso sul bordo del nostro top. Allora, una volta che abbiamo fatto tutto, quindi anche l'ultimo giro di punto basso, il nostro top è pronto. Per abbellirlo potete fare queste piccole frange. Ovviamente queste palline io le ho fatte facendo 4 catenelle chiuse in cerchio e 20 punti bassi all'interno. Ok, ecco qui. Sono 4 catenelle chiuse in cerchio e 20 punti bassi realizzati all'interno di questo cerchio. Poi ho tagliato delle frange lunghe 20 cm più o meno e le ho piegate in due e sono andata a inserire prima la piccola pallina, poi ho fatto un nodino e le ho inserite sotto ogni punto nocciolina realizzato. Se voi volete potete sostituire queste piccole decorazioni di palline con le perline cristalliuri che trovate sul cerchio. Potete sostituire queste palline qui con le perline cristalliuri, eccole qui. Potete tranquillamente sostituirle con queste oppure se vi piace quest'idea potete realizzarla in questo modo. Una volta fatto tutto questo il nostro progetto è terminato. Poi ovviamente ricordatevi di mettere anche i tre bottoncini sul retro del nostro lavoro e poi ho messo anche l'etichetta del cotone fiocco. Questa taglia veste fino a 42, quindi se voi volete potete anche allungare questa fase iniziale per farlo più lungo e ovviamente allargare anche il numero per allargare il busto e aumentare il numero di catenelle. Però fino a 42 questo veste tranquillamente. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo video tutorial con la seconda parte di questo outfit.